Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessila News. Oggi vedremo insieme un accessorio che si presta davvero a molti utilizzi. Stiamo parlando degli scovolini, ovvero i fili di ciniglia con un'anima metallica modellabile che si prestano davvero alla realizzazione di tantissime piccole decorazioni. Andiamole a vedere insieme! Eccoli qui i nostri scovolini, quindi un filo di metallo ricoperto da morbida ciniglia dal diametro di 8 mm all'incirca per una lunghezza di 50 cm. In ogni confezione troverete 10 scovolini. La prima che vediamo è la colorazione arancio. Abbiamo poi il verde, perfetto per le decorazioni floreali. Abbiamo poi il rosso, ideale magari per le decorazioni di San Valentino. Noi ad esempio abbiamo decorato la nostra penna. Abbiamo anche una versione più scura, ovvero il nero. Per le decorazioni dal sapore più invernale abbiamo anche il colore bianco. Pensate ad esempio a delle decorazioni come dei fiocchetti di neve o dei pupazzi di neve. Per chi ha necessità di più colori o semplicemente non sa quale scegliere, è disponibile la versione multicolor con i colori bianco, giallo, nero, verde, rosso e blu. E per concludere vediamo due colorazioni dall'effetto metallico molto luminose, l'argento e l'oro. Perfetti per le decorazioni festive e natalizie ad esempio, genereranno un tocco di luce a tutte le vostre creazioni. Abbiamo visto, ci sono diverse colorazioni, abbiamo anche una versione di colori mixati tra loro, quindi potrete davvero scegliere i colori che preferite, fare le vostre combinazioni e divertirvi a creare dei piccoli oggettini, delle piccole creazioni. Ad esempio anche degli anellini, degli orecchini, ma anche un cerchietto, ad esempio intrecciando tre fili di colorazioni diverse e chiudendoli poi alle estremità con del tessuto avrete un bellissimo cerchietto e con i vari colori potrete abbinarlo al vostro outfit. Altro esempio sono invece le scritte. Potrete per esempio utilizzarli per abbellire le camerette, quindi magari fare anche una lettera per colore. Oppure potrete utilizzarli anche per decorare i pacchetti regalo o anche le bomboniere. Insomma, gli utilizzi sono sbariati, vi resta soltanto che scegliere qual è il vostro preferito. Arrivati a questo punto non mi rimane che salutarvi, ma prima vi ricordo di lasciare un like a questo video, attivare la campanella ed iscrivervi al nostro canale. Vi ricordo anche tutti i nostri social, ovvero la pagina Facebook Meglio di Maya, la pagina Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog, di modo da essere sempre aggiornati su tutte le novità Tessiland. Al prossimo Tessiland News! Grazie a tutti!